Ciao a tutti amici dello svapo, voglio condividere con voi l'ultima notizia che ho appreso adesso a web parliamo di e-joint, cioè si sono inventati un'altra diavoleria, d'altronde il mercato tira soprattutto all'estero dello svapo e hanno inventato la canna elettronica qui siamo già fatti, qui siamo già catafratti canna elettronica solo per l'aspetto estetico, i gusti poi sono diversi, mela, pera, pera, fruttati insomma comunque niente a che vedere con lo spinello, c'è solo la forma e nella punta dove si accende si accende una foglia di marijuana per pubblicizzare la marijuana che come sappiamo nei paesi dove viene venduto questo e-joint, mi pare che sia olandese, è legalizzata insomma comunque niente di liquid al principio attivo di marijuana, gusti normalissimi, come al solito si inventano sempre delle stronzate insomma, se già la gente si guarda male con questo figurati se va in giro con una finta canna. Adesso farò vedere alcune alcune immagini prese da youtube, vedete qua si vedono i gusti, quando si accende, tiriamo fuori dalla scatola, ecco praticamente secondo me è una ego, insomma niente di particolare, però la cosa che ho trovato secondo me è importante e interessante per il futuro dello svapo è che dal video che visto mi pare, pare essendo ogni batteria diciamo avendo un gusto presumo che sia non usa e getta e quindi questa idea che sia non usa e getta potrebbe essere in futuro una buona cosa affiancando insomma questi dispositivi qua, la sigaretta elettronica per coloro che non hanno voglia di sbattimenti, insomma sappiamo che comunque uno dei tanti motivi per i quali magari molte persone non riescono ad andare avanti con lo svapo abbandonando quindi la sigaretta elettronica uno dei tanti, oltre alle stronzate, devo schiacciare il testino, quelle minchiate lì, è proprio che non tutti hanno la voglia di sbattersi a mettere a fare piccolo chimico, liquidi, non liquidi, nicotina, caricare le batterie, abbiamo sempre anche il cellulare, i computer da caricare insomma quindi non tutti sono disposti, soprattutto i giovani che non sentono ancora gli effetti negativi della sigaretta, non tutti sono disposti insomma a fare degli sbattimenti per fumare, compri un pacchetto tiri fuori la sigaretta, la fumi, spesso come fanno molti fumatori la butti per terra inquinando insomma quindi sembra una, se è così l'idea da catturare da questa stronzata delle joint della finta canna è la sigaretta elettronica usa e getta, ma non come quelle delle farmacie che cambiavi il filtrino, usa e getta, prendi, fumi, la usi un po' non so quanto durerà poi la butti via, ovviamente a costo basso, ecco l'unica cosa che questo comporterebbe ma tanto ci sono le scie chimiche, non c'è problema, viene smaltito tutto in cielo, non vi preoccupate, è l'inquinamento, cioè ci sarebbero tante batterie da smaltire, però non c'è problema perché comunque la mafia sa come smaltire i rifiuti tossici, non vi preoccupate ciao a tutti ragazzi, per il momento stai svapo con queste robe che vanno benissimo, ciao fumate, fumate, fumate ciao a tutti Grazie.